Bentornati su MyFootballGersey. Continuiamo a vedere le maglie delle nazionali che andranno ai prossimi mondiali e nella fattispecie andiamo a vedere la prima maglia del Giappone in edizione FAN. La maglia da calcio Adidas Japan 2022 presenta un look moderno. È prevalentemente bianca con blu navi utilizzato per il colletto, i polsini delle maniche e il logo Adidas. La caratteristica distintiva della maglia Whey della Coppa del Mondo 2022 della nazionale giapponese di calcio Adidas è un motivo blu rosso sulle maniche con gli stessi origami della divisa casalinga. Lo stemma appare a colori e le rifiniture corrispondono alle caratteristiche commerciali di Adidas in blu navi. A completare il kit i pantaloncini sono in blu navi con i calzettoni che riprendono il pattern delle maniche. Per la sesta volta di fila il Giappone partecipa alle fasi finali della Coppa del Mondo. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti umidità Aero Ready assicurano il massimo comfort ai tifosi. Non sarà delle squadre delle nazionali più titolate al mondo ma secondo me questa maglia è molto bella. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Il costo lo vedete qui in alto veramente molto basso per una maglia fatta molto bene con tutte le rifiniture giuste con dei bei colori secondo me tra l'altro questa portata con un paio di jeans è bellissima. Qualità ottima e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e troverete sempre in descrizione anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità quindi continuate a guardare il video. Se vi è piaciuto vi prego di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Ciao!